Allora, mister, lei sa benissimo che questa partita non è mai come tutte le altre. Sì, l'ho scoperto quest'anno, sinceramente. Che devo dire, per noi vale tre punti che sono fondamentali, che sono la cosa che conta di più. Se poi a questo possiamo regalare un'ulteriore gioia ai tifosi, è normale che ne saremmo ben lieti. Però la cosa fondamentale per la squadra deve essere quella di tornare alle vittorie, di fare tre punti per continuare a coltivare quello che è il nostro sogno. Quindi questo deve essere l'obiettivo principale, la molla che ci deve spingere domani. Mister, come arriva mentalmente e fisicamente la squadra a questa partita? La squadra arriva bene. Spero con quel pizzico di rabbia in più dovuto ai due punti persi domenica scorsa. Però i ragazzi hanno lavorato bene, come sempre. Io lo dico sempre, ma non lo dico per elogiarli, ma alla fine poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se siamo primi è perché questi ragazzi stanno facendo cose eccezionali, cose straordinarie. Non bisogna attaccarsi al singolo errore o alla partita che si poteva fare un po' meglio. È normale che sempre si può fare un po' meglio. Però fino ad oggi il nostro percorso è da prima della classe e quindi questi ragazzi vanno elogiati. È normale che da quella fine sappiamo che ci aspettano altre 15 battaglie e vogliamo provare a giocarci al massimo le nostre possibilità, guardando partita dopo partita, allenandoci a mille e provando a vincere le più partite possibili. Non ci staranno tanti stravolgimenti in campo per quanto riguarda la squadra e la formazione? Sì, vediamo. Stanno tutti bene. Ho delle buone sensazioni su quello. Se anche dovesse giocare qualcun altro sono convinto che possa far bene. Vediamo, questa notte farò l'ultima riflessione. Domani mattina, prima della gara, deciderò la formazione ideale, sperando che ci venga un'illuminazione. Di quelle tue notturne. Sì, diciamo che speriamo di non fare danni e di non sbagliare la formazione. Fortunatamente fino adesso è successo raramente, quindi speriamo di continuare su questo trend. Senti, prima di chiudere, due parole su Montaldi. Com'è la situazione? No, Hannibal si sta rialenando col gruppo, sta molto meglio. Stiamo valutando con lo staff medico per evitare di avere eventuali ricadute, quindi stiamo andando un po' con i piedi di piombo. Però il ragazzo avvoglia, anzi sta scalpitando. Siamo noi, soprattutto lo staff medico che lo sta seguendo. Vediamo, ora che scendo giù mi faccio un'ultima chiacchierata. Valutiamo un attimo. Potrebbe essere a disposizione per domani. Grazie. Grazie.